Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovissimo video. Come al solito parliamo del nostro amatissimo gossip e ci inoltreremo sul programma Uomini e Donne perché c'è stato un gesto, posso dire clamoroso, tanto le parole sono sempre quelle per il gossip, c'è stato questo gesto tra Carola e Federico perché ormai, diciamoci la verità, manca davvero poco alla scelta definitiva del tronista che per settimane intere praticamente ha tentennato che non era proprio sicuro con Alice e Carola. Sapete il classico bivio che non sai quale scegliere, ma dopo aver dato ampio spazio al trono hover nella puntata di Martedì 31 Maria De Filippi dedica parecchia importanza alle scelte dei tronisti Lavinia, Mauro e Federico Nicotera. Naturalmente non mancheranno colpi di scena su Riccardo Guarnieri e Gloria dopo che la coppia ha deciso di darsi una seconda chance, ma negli occhi dei telespettatori resterà sempre impressa per molto tempo qualcos'altro di diverso, ovvero quel che è successo tra Biagio, Carla e Clea, ed è la conduttrice stessa a spiegare e a far chiarezza su questo. Carla ha saputo che Biagio ha accettato il numero di Clea, quindi suppone che ha nella stanza d'albergo Clea. Carla di notte, esattamente alle due e mezza, va a bussare nella stanza di Biagio nella certezza che avrebbe trovato Clea. No, non la trova. Non contenta, telefona anche a Clea. E questa cosa va avanti dalle due e mezza alle cinque del mattino. Tra Biagio e Clea non è successo niente, Clea viene interrogata da Carla. Insomma, parliamo di roba mai vista prima. Dopo le ultime accuse di Federico e Carola di essere superficiale e la relazione di quest'ultima, in tanti hanno iniziato a criticare proprio il comportamento del tronista. Federico comincia a non difenderti più. La sbinuisci sempre sta ragazza, ma vattene con Alice, che palle, ma che vai cercando, Maria per Roma? Ma nella puntata odierna Federico e Alice hanno un confronto, ma è nell'esterna con il tronista e Carola che succede qualcosa di imprevisto. Carola decide infatti di dare un bacio passionale a Federico, arrivando a sorprendere anche lui. Insomma, dopo i venti di tempesta è tornata la quiete tra i due e in molti sono pronti a scommettere che gli ultimi sviluppi siano quelli decisivi. Nel frattempo Alice non prende per niente bene questa situazione e c'è chi prende le parti della corteggiatrice. Eh, a me dispiace troppo per Alice. Ci ha rimesso pure il lavoro per lui. E lascia lì seduta a botte di settimane senza fregarsene. Ma non ha nemmeno rispetto. Cioè, voglia di vederla dov'è? Zero? Al di là di tutto c'è anche l'aspetto umano. È palese che sia sotto un treno per Carola. Allora scegli e, se fuori va male, ti arrangi magari. Ma non tenere quella poverina così non è giusto e non lo merita nemmeno. E con questo commento andiamo a chiudere questa news. Io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su per supportare questo canale o questa pagina e vi aspetterò per un prossimo video.